Esserci sempre la parola d'ordine della Questura di Cremona che in coordinamento con quella di Crema e Casal Maggiore e di altri comuni come Pizzighettone e Agnadello mette in campo un'iniziativa di informazione per spronare la popolazione, in particolare gli anziani, a rivolgersi alle forze dell'ordine e a segnalare ogni qual volta si senta bisogno di aiuto. La duplice funzione del servizio mira ad aumentare la sicurezza e dall'altra parte ad abbattere il muro di solitudine che spesso lascia gli anziani isolati. Noi ci siamo, esserci sempre, l'ho detto già anche nel 2019 è il motto della Polizia di Stato, ma esserci sempre per ogni età vuol dire che noi se avete bisogno ci siamo ma dovete chiamarci, dovete chiamarci senza nessuna remora, senza aver né paura di disturbare né paura di chiamare senza avere un reale motivo. Per noi è importante perché magari una volta arriviamo e non c'è motivo, ma magari la volta dopo arriviamo e il motivo c'è. Cosa mette in campo la Polizia di Stato per dare sostegno a chi cade sempre più spesso vittima di trucchi? Beh, questo progetto direi che è un bel progetto secondo me, è un momento importante per la Polizia di Stato perché stiamo cercando di pubblicizzare il più possibile il numero di emergenza, mettiamo in campo tutta la nostra professionalità, mettiamo in campo tutta la nostra disponibilità. Il momento è difficile, è difficile per tutti, però se noi abbiamo l'aiuto delle persone noi otteniamo molti più risultati e la loro chiamata ci permette di essere ancora più presenti.